In piena esecuzione e con ritmi serrati proseguono i lavori della nostra piscina comunale efficientamente energetico, un altro messo in campo in questi mesi, siamo a oltre 10 cantieri attivi, uno dei quali è proprio questo che vedete al mio spallo. Un intervento importante perché è uno di quegli interventi che vanno nell'ottica oltre che della ristrutturazione e efficientamento energetico dei locali anche sportivi ma anche di una sostenibilità, quindi di un futuro più green e più sostenibile anche per il nostro territorio. L'intervento è partito, è partito veramente a ritmi molto alti, il tutto per riuscire ad avere di nuovo la nostra piscina aperta e funzionante per i primi di novembre, quindi riuscire a finire i lavori intanto interni, quindi delle nuove caldaie, delle nuove areazioni, tutto ciò che riguarda l'impianto di sette e riuscire a farlo nel più breve tempo possibile. Per il momento i lavori procedono molto bene, come vedete alle mie spalle è già arrivato anche tutto l'impianto di areazione e di distribuzione nuovo, quindi siamo contenti, siamo ormai sicuri di riuscire a riaprire insieme all'associazione Nuoto Bibiena nei primi di novembre tutta l'attività. Poi nei mesi invece estivi prossimi sarà finito l'intervento per quanto riguarda l'esterno tutta la nuova coibentazione. In questo intervento adesso di ottobre sarà fatta anche tutta la sostituzione con i nuovi infissi, quindi un intervento da oltre 600.000 euro grazie all'ufficio, grazie all'assessore caporali, a tutta la giunta, tutta la squadra che come al solito progetta e poi tramite i bandi cerchiamo di reperire le risorse importanti per il nostro territorio per riuscire a fare altrettanto importanti interventi sia per il presente ma soprattutto anche per il futuro di Bibiena e del Casentino.